Mi hai distratto Credono che sia una mina Silenzio, state tutti zitti Lucas, riesci a lanciare una granata nel portello di quel carro? State giù Finali dentro, dai! È un lancio festice Wow, sei un fenomeno! Carica, carica! Ok, adesso si ragiona! Eh, spada, si viene spada Sì 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 Scusate! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti